Si è chiuso con un evento sui temi dell'intelligenza artificiale e la realtà virtuale, la prima parte del format Aperti a Pranzo, ideato e promosso dalla CovCommercio di Foggia. A partire dal mese di febbraio sono stati quattro gli appuntamenti pensati per gli associati per fare network, rafforzare legami e avviare nuove collaborazioni professionali. Aperti a Pranzo è stata una felice intuizione. Abbiamo parlato di influencer marketing, di strategie per l'e-commerce, di creatività, di linguaggi utili per la crescita dell'impresa e abbiamo ospitato esperti e professionisti. L'ultimo appuntamento con Alessio Giannone in arte Pinuccio e gli autori Aldo Augelli e Fabio Di Credico ha riscosso molto successo. Ritengo che gli appuntamenti siano stati tutti una bella occasione per far incontrare mondi e linguaggi differenti, ha sottolineato il presidente di CovCommercio Metauro. C'è bisogno di una buona dose di innovazione, creatività, conoscenza per pensare all'impresa in modo nuovo. Il 26 giugno, ha sottolineato ancora Metauro, si è guardato al futuro con i temi dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Abbiamo il dovere di conoscere e imparare, trovando tutti gli elementi positivi che possano risultare vantaggiosi per il lavoro dell'imprenditore. È compito dell'associazione continuare a creare opportunità nuove ed elevare il livello di innovazione del nostro territorio, favorendone la crescita.